Come sono state individuate le famiglie che hanno beneficiato della spesa sospesa? Il consigliere comunale forzista Piero Camber, anche dopo la conferenza stampa che qualche giorno fa ha fatto il punto su quanto realizzato dall'iniziativa, nel corso della quale erano emerse le perplessità di alcuni fra quelli che hanno aderito alla raccolta, ha preso carta e penne ed ha presentato un'interrogazione al sindaco Cosolini e all'assessore Famulari per conoscere quale composizione abbiano i nuclei familiari beneficiati, quante siano le famiglie italiane e quante quelle straniere, le motivazioni per macro-categorie che hanno portato alla loro individuazione, se e quale tipo di turnover venga attuato. Sai, io leggo che sono 11.000 persone seguite a Trieste dai servizi sociali. Leggo che vengono date 99 borse, queste borse diciamo della spesa. Un poco su nomi segnalati dal Centro Servizi del Volontariato e un pochi segnalati dal Comune. Vengo a sapere, non leggo, vengo a sapere perché sono dati che non sa perché rimangono secretati, che quelli indicati dal Centro Servizi del Volontariato 44 sono praticamente tutti quanti italiani, tranne un paio di casi. I 55 segnalati dal Comune sono praticamente per due terzi non italiani. E sai, uno ci rimane male, dice ma credo che la povertà ci sia anche da parte degli italiani. Gli assistenti sociali sono sul territorio, conoscono le realtà. Perché questi 55 sono soltanto un terzo italiani e due terzi stranieri? E poi, perché il Comune non intende fare un turnover e far girare un po' tutti quelli che hanno bisogno, ma ripetere sempre sulle stesse persone questa borsa della spesa?